Ciao bambini! Per questa attività ci serve il didò, i bastoncini, quelli che si usano per fare gli schiedini e la pasta. La pasta deve essere o penne o mezze penne. Iniziamo con il didò. Schiacciamo il didò bene e tante volte perché così il didò si scalda e poi riusciamo meglio ad appiattirlo. Quando il didò è bello morbido andiamo a schiacciarlo sul tavolo con le mani. Usiamo un po' di forza, schiacciamo, 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 schiacciamo. Il didò non deve diventare troppo sottile, deve essere un po' spesso perché sennò poi non riusciamo ad infilzare i nostri bastoncini. Poi prendiamo i bastoncini e andiamo ad infilarli sul nostro didò. Lasciamo un po' di spazio tra un bastoncino e l'altro. Prendiamo la pasta e andiamo ad infilare la pasta all'interno dei nostri bastoncini, in questo modo. Possiamo tenere anche il bastoncino fermo, così ci aiutiamo ed è un pochino più semplice. Poi riempiamo anche l'altro bastoncino. fino alla fine. Quando abbiamo finito andiamo a sfilare la pasta dai nostri bastoncini, in questo modo. Buon divertimento! Ciao! Ciao!